L'amicizia nasce dalla spontaneità, quando non è condizionata da interessi allora fiorisce in modo spontaneo e rimane, non viene deteriorata. Naturalmente poi ci sono vari tipi di amicizia, per esempio io ho molte donne amiche mie e molti pensano che io in realtà sia un erotomane, ma io invece ho molto feeling con le donne perché le trovo più divertenti della stragrande maggioranza degli uomini che ti parlano solo di lavoro, ti parlano di politica che mi ha rotto l'anima e invece con le donne si riesce anche ad approfondire qualcos'altro, quantomeno mi incuriosiscono di più e devo dire che le donne anche qui nel mio giornale mediamente sono più brave dei maschi per una ragione credo abbastanza semplice, che adesso nelle università la maggioranza delle iscritte sono appunto donne, quindi studiano di più, studiano meglio e automaticamente lavorano anche meglio e se uno lavora bene tu hai subito simpatia nei suoi confronti e questo si rafforza, questo concetto in me si rafforza di giorno in giorno. Grazie